e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video e oggi vi faccio vedere nel dettaglio la sorpresa di batman con il jetpack la prima sorpresa che ho trovato nel luogo di pasqua di batman il terzo penso che lo prenderò su web e su marketplace queste sono le istruzioni qui c'è il codice qr code e questo ragazzi il personaggio di batman con tutto il suo splendore molto ben fatto il logo bellissimo con la future che si muove ecco qui la parte dietro davvero molto ben fatto anche il jetpack e niente ragazzi mentre ti piace commentate iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti belli ciao a tutti